Collegio Raffaello, mostra dedicata a Luigi Santucci, ma non solo, due giornate con conferenze, siamo con Vittorio Sgarbi, Assessore alla Cultura del Comune di Urbino, un personaggio che oggi si inizia a ricordare, ma che già a novembre annunciato sarà ricordato in modo più solenne. Una tornata importante per Urbino, è importante celebrare uno scrittore cristiano. Mi pare che, oltre alla qualità letteraria, ribadire che Santucci è uno scrittore cristiano è importante in tempi in cui il cristianesimo è minacciato, in cui essere uno scrittore cristiano sembra una proiezione di minoranza. Lui lo ha fatto con tanto orgoglio che meritava più attenzione da parte nostra perché la letteratura si consacra anche nel riconoscimento di una fede. Se è vero che il nostro più grande romanziere è stato un romanziere cristiano, che è Manzoni. D'altra parte Carlo Bo era un grande, potentissimo anche per nostra fortuna, critico d'arte cristiano, così Leone Piccioni che è scomparso da poco. Sarebbe interessante rimettere insieme Testori, Pasolini, cioè quelli che hanno avuto il coraggio di essere cristiani. Santucci l'ha fatto in maniera francescana, con una dimensione non, come la farei io, di combattimento. La lode alla vita. Lo dico perché lui ha scelto la dimensione beata, creaturale, mentre invece quando io difendo i valori cristiani lo faccio come se fosse in trincea, perché i tempi chiedono... Però è vero che i diversi aspetti della fede cristiana in letteratura sono un buon tema per Urbino, partendo da Carlo Bo e con la presenza di uno che lo fa in modo molto militante, che è Davide Rondoni, perché oggi quando tu leggi uno scrittore non ti poni il problema che lui ti dica. Santucci è interessante perché muore nel millennio scorso, nel 99, e io credo che sia l'ultimo che ha avuto la forza, perché Pasolini è morto, e anche Testori, sono tutti morti nel secolo scorso. Che un artista, uno scrittore del nostro millennio dica sono cristiano, mi pare una cosa che non si dà. Naturalmente per ragioni così, neanche di vigliaccheria o di pubblicizia, ma come di distrazione, di mancanza. Invece mi è piaciuto molto questo aspetto che viene oggi ricordato di Santucci, per cui occorre che noi, dopo questa bella mostra in cui tanti ragazzi hanno fatto illustrazioni sull'ispirazione di Tavanelli e di sua moglie, hanno fatto una cosa importante, è una bella mostra che meritava di essere accolta al museo, alla Casa della Poesia, comunque sta qui nel legato Albani, nel palazzo di Coglietto Raffaello, quindi siamo comunque in un posto importante, però non ha avuto la risonanza che meritava. Occorre invece celebrare Santucci e aprire un filone di rapporti fra letteratura e cristianesimo in occasione del centenario della morte l'11 novembre del 2018. E quindi mi pare una mostra importante, sono felice di dire che è importante aver celebrato Santucci e che avevamo sottovalutato questa occasione, perché l'allestimento, la grafica, le opere dei ragazzi, tutto quello che è stato fatto per Santucci serve anche a noi, e sarebbe bene che tanti la vedessero, che i presidi mandassero gli studenti a studiare questo autore, gli editori ristampassero le sue opere. Insomma, credo che sia una cosa che è importante fare, perché religione e letteratura ritrovino il dialogo che è giusto che abbiano in un mondo che è un mondo cristiano, ancora per un po', finché non saremmo occupati dai musulmani, non è che lo scrittore cattolico, penso a Bernanò, penso a tanti, a Moriac, non abbia anche un senso della vita che è piena di impunità, è piena di peccato. Però è bello il suo slancio verso la lode, lodare il mondo, parlare bene delle cose, non essere autolesionisti, è molto importante.